E allora siamo in compagnia di Marco Frezzotti, man of the match della partita tra Cisterna e Ermada. Due gol in due partite per te, due vittorie su due per il Cisterna. Si riparte come l'anno scorso alla grande. Come è andata Marco? Oggi è andata molto bene, noi ogni partita la giochiamo per vincere. Oggi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, l'abbiamo chiusa un po' troppo tardi, però è andata bene, siamo contenti. Un'ottima Ermada che ha tenuto testa quasi per due terzi della gara, poi alla lunga è uscito il Cisterna. Goll e assist per te? Quant'è l'obiettivo personale quest'anno? Quanti sono i gol? Sinceramente l'obiettivo personale conta sempre poco, preferisco essere sempre lì su e giocarmela e speriamo che quest'anno sia l'anno giusto. Sicuramente l'anno scorso i tuoi gol hanno contribuito alla cavalcata del Cisterna che poi si è fermata poco prima del rush finale. Quest'anno l'obiettivo è ripetere l'obiettivo dell'anno scorso e quindi magari riuscire a arrivare in fondo. Arrivare più su sicuramente. Non vi nascondete? No, la squadra ha tutte le potenzialità quindi non vedo il motivo di tirarci indietro. Sta a noi. Ogni partita va giocata come se fosse l'ultima e continuiamo. L'ostatura della squadra più o meno è la stessa dello stesso anno, ci sono stati nuovi innesti, come va con loro? Molto bene ragazzi, molto validi. Parecchi li conosco, ho giocato insieme a loro e siamo contenti. Molto validi diciamo. Si è visto affiatamento fin da subito, bene così. Chiudo con una piccola domanda. Quante volte vuoi finire nella top di Levesport Academy quest'anno? Perché ci stai sempre praticamente. Spero altre almeno. Mancano qua 28 partite, diciamo 25 dai. Va bene, ti tieni in basso. Grazie ancora Marco, complimenti, questo è il premio per te per essere l'MVP della gara. Grazie, grazie.